Ciao a tutti, oggi ci occuperemo di due particolari tipi di soggetto, il soggetto sottinteso e il soggetto mancante. Partiamo subito con alcuni esempi. Potete stoppare la registrazione, copiare le frasi sul quaderno e cercare di trovare predicato e soggetto per ciascuna. Vediamo la soluzione. Desideriamo un gelato. Il predicato è desideriamo, il soggetto sottinteso è noi. Uscite immediatamente. Uscite è il predicato, voi è il soggetto sottinteso. Che cosa fa Antonio? Fa, il soggetto è Antonio, guarda la televisione. L'altro predicato è guarda, il soggetto è sempre Antonio, che era già stato indicato nella domanda precedente. Ieri Paola è uscita, è uscita predicato, il soggetto è Paola. Ha incontrato Laura, ha incontrato, il soggetto è sempre Paola. E con lei è andata al cinema, è andata, il soggetto è sempre Paola. Possiamo dunque ricavare alcune regole interessanti. Ovvero, il soggetto sottinteso si presenta sotto quattro forme. E sono le quattro frasi che avevamo utilizzato come esempio. In desideriamo un gelato, noi è sottinteso proprio perché è un pronome personale. In uscita immediatamente, voi è sottinteso e il verbo è all'imperativo. Che cosa fa Antonio? Guarda la televisione. Antonio è sottinteso perché? Perché in questo caso guarda la televisione è la risposta ad una domanda nella quale il soggetto è già espresso. Cioè nella domanda Antonio, il soggetto, era già espresso. Nell'ultima frase, il soggetto è espresso nella prima di una serie di proposizioni che hanno tutto il medesimo soggetto. Ovvero, il soggetto è sempre Paola, non devo ripeterlo. Altrimenti renderebbe faticosa la lettura. Ieri Paola è uscita, Paola ha incontrato Laura e Paola con lei è andata al cinema. Vedete che non funziona. Quindi esistono queste quattro regole. Abbiamo il soggetto sottinteso quando il soggetto è un pronome personale, quando il verbo è all'imperativo, quando il soggetto è già espresso in una domanda a cui rispondo e quando il soggetto è già espresso in una serie di proposizioni che hanno tutte lo stesso soggetto. Passiamo al soggetto mancante. Ecco quattro frasi. Stoppate la registrazione, copiatele sul quaderno e provate ad individuare predicato e soggetto. Ecco le soluzioni. I predicati sono piove, nevica, si partirà, si entra. In questo caso qual è il soggetto di piove? Non possiamo sottintendere il cielo piove, neanche egli piove. La stessa cosa vale per nevica. Infatti scopriremo che i predicati che indicano agenti atmosferici non hanno un vero e proprio soggetto. Sono considerati senza soggetto. La stessa cosa vale per si partirà domani e non si entra di qui. Si partirà vuol dire partiremo. La gente partirà. Si è deciso di partire domani ma non c'è un vero e proprio soggetto. La stessa cosa vale per si entra. In genere non si può entrare da qui. La gente non può entrare da qui ma si entra non ha un vero e proprio soggetto. Vediamo le due casistiche. Quindi il soggetto manca con i verbi impersonali che indicano fenomeni atmosferici, piove, adirotto, nevica da giorni, eccetera, eccetera, e verbi con la costruzione impersonale, cioè preceduti dal si impersonale. Si partirà domani, non si entra da qui. Quindi tutti i verbi che hanno una costruzione personale possono essere resi impersonali dal si. Infatti partire, posso benissimo dire Marco partirà domani, ma se viene preceduto dal si diventerà impersonale. La stessa cosa per entra. Marco entra dalla porta, ma se è preceduto da si non si entra diventa automaticamente impersonale. E per oggi è tutto. Arrivederci. 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 Grazie.